Sessore, riparte una nuova stagione al Matta, una stagione importante che punta anche sui temi etici quest'anno. Sì, perché il Matta dall'essere è un luogo off, cioè un po' periferico rispetto ai luoghi culturali di questa città, è diventato in breve tempo invece il cuore pulsante della produzione culturale, della innovazione, del teatro e della cultura di qualità di questa città. E quindi ogni rassegna è partecipatissima, come lo sarà questa di casa al teatro, con tanti aspetti e declinazioni legati ai temi sociali importanti per questa città e per questo paese. Avete puntato al rilancio comunque di questa struttura? Sì, perché abbiamo visto che le iniziative prodotte dal Matta sono molto interessanti, molto innovative e molto partecipate. La città è iniziata ad amare questo luogo e a viverlo tutti i giorni. La stagione aprirà sabato 18 febbraio con uno spettacolo di Enrico Messina, che è uno degli attori più rappresentativi del teatro di narrazione, con uno spettacolo diciamo ironico sulla figura di Orlando, Orlando solo furiosamente rotolando, e questo è il titolo, e poi continuerà fino al 12 maggio con spettacoli, ma anche c'è una novità per la stagione del 2017, che sono degli incontri di formazione degli spettatori. Quindi lo spettatore noi lo invitiamo ad essere partecipe attivo, consapevole, e quindi saranno organizzati dalla Casa dello Spettatore di Roma, che è un luogo prestigioso che si occupa di formazione dello spettatore da tanti anni.